Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, ecco qui il numero 27 di Gigrobo d'Acciaio. Come potete vedere ho diversi pacchi lì sotto, no, forse non li vedete, ma se ne avete un pezzetto. Tra l'altro sto ancora studiando il disco dei metalli che avete il track by track, ma vabbè, questo non so se interessa a voi che seguite Gigrobo d'Acciaio. Ma dal peso di questa busta mi viene da pensare che forse le calamite che ci hanno dato sono vere. Quindi forse questo pezzo si stacca realmente. Per cui direi di procedere con l'apertura e andiamo a vedere tutte le fasi di montaggio per vedere se in questo numero riusciamo a completare tutto il braccio. Ok, allora andiamo ad aprire qua, tiriamo fuori la busta con i pezzi. Sì, bella pesante devo dire, quindi ci spero fortemente che siano dei veri magneti. E intanto andiamo a vedere cosa riceveremo. Allora, nei prossimi numeri inizieremo a ricevere una parte della mano sinistra, una parte alta del braccio e il braccio sinistro. Quindi, diciamo, rimaniamo sempre su questa sezione. Mentre per quanto riguarda il montaggio, come vedete, abbiamo il braccio da completare. Quindi sto vedendo se questi pezzi avanzati servono. No, non ci servono, quindi li continuiamo a tenere da parte. E andiamo a recuperare tutte le cose di questa volta. Allora, andiamo a vedere. Togliamo tutti i pezzi dalla plastica. Vediamo. Questa è una vera sfera, attenzione. Quindi, bella pesante. E qui abbiamo... Ah, questi sono dei veri magneti. Attenzione. Bellissimo. Quindi stiamo facendo un level up di livello. Quindi, no, stiamo facendo un salto di qualità, nel senso che tutte le altre parti, fino adesso, non erano realmente magnetiche. Invece qui sì. Quindi andiamo a capire come si monta. Lo facciamo in diretta, insieme. Quindi, allora, questo qui, devo capire se ci serve adesso. Lo scopriremo dopo. Andiamo a riaprire questa sezione, in modo tale da poter lavorare bene. E andiamo a prendere, allora, il pezzo... Allora, assemblare uno, che sarebbe questa sezione qui. Ah, questo lo potevo lasciare. Questa parte la potevamo lasciare inserita. Va bene, poco male. Poi, questo pezzo... Allora, oh, guardate che bello. Che bella presa che fanno. Quindi noi andiamo a mettere questo pezzo qui dentro. Nel frattempo è caduta la sfera. Vabbè, avete sentito il botto. E qui abbiamo questo tipo di aggancio. Quindi andiamo a verificare come mettere la stessa cosa qua. E chiaramente ci dobbiamo mettere anche la mano. Quindi andiamo un attimo a capire qual è il verso giusto. Perché io lo sto vedendo in diretta, quindi non ne ho la più pallida idea. Quindi credo che sia così. Adesso vediamo. Sì, dovrebbe essere così. E questo lo mettiamo così e così. Vediamo un attimo. Se si chiude è perfetto. E chiaramente andando poi a sigillare, a chiudere questa sezione verde, abbiamo qui la parte che si aggancia. E quindi possiamo agganciare il nostro braccio. Ovviamente non resta su, cosa piuttosto scontata, visto che è un magnete, forse un minimo ci rimane. Ma non è di certo questo lo scopo. La cosa bella è che noi possiamo simulare il montaggio di jig. Certo sarebbe stato bello se avessero magnetizzato anche le altre parti, ma vabbè. È sicuramente un dettaglio trascurabile, vista l'altissima qualità dei materiali. E abbiamo completato questo braccio. Allora, abbiamo completato il braccio. Guardate che spettacolo. Il braccio destro completo, diciamo che questa parte magnetica è veramente fichissima. Devo dire che, diciamo, è chiaro che se cominciamo a muoverlo va giù. Però non è nemmeno troppo morbido. È ovvio che, secondo me, non rimarrà mai in questa posizione fissa. Ecco, se vedete che se lo lascio non rimane troppo su. Nel senso che è molto morbido. Però, diciamo che c'è sempre il rovescio della medaglia nelle cose. C'è la parte bella da vedere. Scusate, non va molto a fuoco perché evidentemente non gli piacciono questi colori al mio obiettivo. Ma è sicuramente fatto molto, ma molto bene. Guardate che bello. Quindi, diciamo, non vedo l'ora di completare anche l'altro braccio. Man mano che riceveremo i pezzi. E a questo punto suppongo che questa parte che avanza, e anche questo qui, adesso non ho capito dove va, ma in questa sede non mi sembra di vederlo utilizzato. Tra l'altro, se mi sbaglio, ditemelo, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ma sicuramente sarà da utilizzare più avanti. Quindi, a questo punto, super soddisfatto, vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio del nostro gigrobo d'acciaio. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao! 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 Grazie a tutti.